Pronti per il nostro primo videocollegamento di oggi, vi avevamo anticipato che vi riportavamo a Matera dove siamo stati abbastanza spesso nell'ultimo periodo perché questa città, la città dei Sassi, sta vivendo in realtà un periodo di grande fermento sociale e culturale, anche i Sassi stanno parlando a Matera quindi la regia ci offre intanto uno scatto panoramico su questa meravigliosa città del Sud Italia dove Mariella Stella, innovatrice sociale, animatrice territoriale, founder di Casa Natural, da qualche tempo sta lavorando anche alla prima edizione di un festival straordinario, un'intuizione pazzesca, un festival che si svolge oggi a Matera ed è il primo festival dell'invidia sociale. Buongiorno Mariella, ben trovata, come stai? Buongiorno, sto bene, emozionata perché parte questo festival, c'è molta attenzione sul festival quindi siamo entusiasti, non vediamo l'ora di vedere cosa succederà. Ecco, stiamo vedendo a tutto schermo il logo, la grafica del festival, avete avuto un'intuizione straordinaria, non mi sorprende che tutti i media vi stanno seguendo in questi giorni e soprattutto oggi che il festival si svilupperà su un programma lungo ed articolato, ma facciamo le cose per ordine. Come nasce e perché nasce il primo festival dell'invidia sociale? Allora, nasce sicuramente dall'esperienza perché io penso che anche il successo mediatico che ha avuto il festival è dovuto al fatto che ognuno di noi ha sperimentato questa sindrome dell'invidia sociale sia come vittima che come protagonista, come invidioso ed è un sentimento antichissimo che abbiamo anche studiato in questo periodo proprio per capire un po' dove affonda le radici ma di fatto affonda le radici nel DNA umano, fa parte di tutti e diciamo chi è più bravo e chi è meno bravo a gestire questo sentimento. Noi abbiamo deciso di raccontarlo dal punto di vista sociale, quindi non l'invidia singola del singolo ma l'invidia che si scatena a livello di organizzazioni, quella che si scatena tra istituzioni, si scatena tra città, non a caso abbiamo il nostro città dei campanili, si scatena anche tra contesti organizzati che dovrebbero essere lontani da questi sentimenti. Non a caso abbiamo invitato anche Don Flavio Tufaro che è un prete che ci racconterà un po' lo sviluppo di questo sentimento sia nella Bibbia ma proprio anche nei contesti che uno non immaginerebbe. Bene, io credo che sia veramente opportuno fermarsi a riflettere su queste questioni, su questo argomento perché tante volte il senso più profondo del festival sta proprio lì. L'invidia appunto ci impedisce invece di fare rete, di collaborare, di volerci bene in maniera costruttiva perché questo ovviamente non vuol dire che non possiamo fare delle critiche quando quelle critiche sono mosse da un sentimento appunto di voler costruire insieme qualcosa di più bello e di più importante. Quindi ricco programma che stavamo vedendo e di cui ci davi qualche anticipazione anche tu ma Matera come dicevamo prima sta vivendo un gran bel momento e penso tu possa confermarmi che nonostante quel DNA che ci caratterizza si sta costruendo tanto, vero? Sì, si sta costruendo tanto perché per esempio le nostre organizzazioni siamo nuove organizzazioni che hanno deciso di investire in questo festival diciamo provano, hanno sperimentato quella che è invece una, quello che è un sentimento bello che è quello dell'ammirazione e infatti poiché lo abbiamo sperimentato e vediamo quanto possa essere accrescitivo provare ammirazione e non provare invidia sociale abbiamo deciso di organizzare anche all'interno del programma un laboratorio con una counselor di ammirazione l'abbiamo chiamata intelligenza spirituale cioè imparare ad ammirare piuttosto che cercare di invidiare quindi cercare di bloccare lo sviluppo altrui per diciamo non provare quel sentimento scomodo che ci fa guardare agli altri come migliori di noi e che ci mette a disagio è un'intuizione davvero molto bella e molto importante perché poi a volte quella, quell'invidia appunto non ci permette di confrontarci correttamente con il prossimo e paradossalmente è un danno che facciamo a noi stessi perché l'invidia poi non ci fa crescere, non solo non favorisce in un certo senso la crescita, lo sviluppo delle idee altrui ma quella impoverimento altrui poi è un impoverimento anche personale e si ricollega un po' a questo concetto il tema, il titolo del festival da zero a zero? Sì, il titolo del festival deriva un po' da una storia che ci veniva raccontata sempre da un amico che diceva che funziona così diciamo al sud ma abbiamo scoperto che funziona così ovunque visto il successo del festival e cioè che diciamo si innesca un meccanismo per cui se io e te giochiamo una partita di calcio il calcio diciamo è una cosa comprensibile a tutti e io segno un gol tu invece di volerne segnare due, voler essere migliore di me, voler dimostrare di valere di più in realtà fai di tutto per annullare il mio gol, per riportare il risultato zero a zero che cosa vuol dire il risultato zero a zero? Vuol dire che nessuno emerge e vuol dire anche che se siamo in una situazione di mediocrità vogliamo mantenere quella situazione affinché poi non emerga diciamo il valore di uno dei due e quindi in qualche modo non ci sia sviluppo, è una logica che tiene tutto fermo zero a zero, quindi tiene tutto fermo in questa diciamo situazione di stasi e di mediocrità io penso che molti si riconoscano in questo, riconoscano questa dinamica ed è una dinamica che dobbiamo superare paradossalmente a volte anche accettando il bruciore della sconfitta perché anche perdere tante volte può insegnarci qualche cosa forse ecco come dicono alcuni perdere tante volte è più educativo che vincere però l'importante è non stare fermi perché altrimenti non cresciamo come dicevamo prima e poi tanta simpatia intorno a questo festival, tanti colori e tanti slogan come quello che leggo sulla tua maglietta tutta fuffa sì, allora questo hashtag nasce da una storia di haters perché dalle nostre parti c'è questo hater che tutte le volte che qualche organizzazione fa qualcosa di bello lui interviene nei commenti e scrive sempre vabbè tanto è tutta fuffa, sì tanto tutta fuffa, tanto lo sappiamo che questa organizzazione è tutta fuffa allora siccome ci siamo ritrovati tutti e nove a dirci ragazzi ma voi vi siete mai sentiti dire tutta fuffa? cioè è proprio l'espressione di chi vuole diciamo ridurre il tuo impegno, di chi vuole dire che poi in realtà non c'è niente dietro quello che fai e allora abbiamo deciso di farlo diventare l'hashtag del nostro festival tant'è che poi questo hater ha commentato proprio un post del festival dicendo questa cosa ed è stato divertente perché noi gli abbiamo detto grande, grazie, sei stato tu l'ideatore di fatto di questo hashtag e quindi lo abbiamo così proprio neutralizzato nella sua forza invidiosa che bello, che bello riuscire a ribaltare questi luoghi comuni, questi cliché e fare dei nostri territori, dei laboratori permanenti di innovazione sociale quindi davvero complimenti per questa intuizione e per il prezioso lavoro di rete che state facendo a Matera in conclusione Mariella ti chiederei come si può fare per partecipare al festival per quanti magari vivono a Matera o nei pressi e possono raggiungervi con facilità e come possiamo seguirvi noi dalla distanza allora noi siamo da questa mattina alle 10 fino a stasera alle 21 al museo Ridola appunto in via Ridola a Matera e si svolgerà tutto lì l'evento e si alterneranno momenti di laboratorio, momenti scientifici con sociologi e antropologi importanti quindi è possibile venire lì, per chi è lontano faremo delle piccole dirette dal nostro evento perché c'è moltissima attenzione, vorremmo ecco che anche chi non riesce a partecipare possa seguire un minimo, quindi non sarà tutto in diretta l'evento però ci saranno dei momenti di diretta e quindi basta andare poi sul sito da zero a zero in particolare sui canali social Instagram e Facebook da zero a zero per seguire un po' in diretta attraverso le foto e i video quello che succederà Molto bene Mariella, io ti ringrazio di vero cuore per averci dedicato alcuni minuti di questa giornata così intensa che ti aspetta e che vi aspetta a Matera quindi vi facciamo tanti cari auguri per questa prima edizione del Festival dell'Invidia Sociale Grazie E ovviamente un augurio di sbloccare il risultato ma questo lo state già facendo in realtà vi seguiamo da un po' come detto per cui l'augurio è di continuare a giocare la partita della nostra vita con entusiasmo, partecipazione e con un grande gioco di squadra Grazie, vi aspettiamo Grazie a te, grazie a te e a tutti quanti i partner, i volontari, i collaboratori che vi danno appunto, che costituiscono il vostro tessuto sociale che a Matera sta producendo delle cose davvero molto molto belle Bene, dunque noi arrivati a questo punto ci fermiamo ancora per qualche istante ma ci ritroviamo subito dopo la pubblicità Grazie a tutti